Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. O Padre, che ci hai donato la testimonianza ardente del giovane Carlo Acutis che dell'Eucaristia fece il centro della sua vita e la forza del suo quotidiano impegno perché anche gli altri ti amassero sopra ogni cosa. Conferma la nostra fede, alimenta la nostra speranza, rinvigorisci la nostra carità a immagine del giovane Carlo che crescendo in queste virtù ora vive presso di te. Concedici per sua intercessione la grazia di cui abbiamo tanto bisogno e con essa la liberazione da ogni male dell'anima, del corpo e della mente. Confidiamo in te, Padre, e nel tuo amatissimo Figlio Gesù, in Maria Vergine, nostra dolcissima Padre, e nell'intercessione del tuo beato Carlo Acutis, Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, Amen. Beato Carlo Acutis, prega ed intercedi per noi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen.